In croato si cantava stavolta 3 nozze c'è trecuta del canz del steptu io, cinch'au arruate trea c'era amaru grumbo io, e l'uate che a bire e mi le avla soa, ma io e noi sui che vogliam bire vrut. Ha una bella voce, ha una bella voce. Quanto sono di voglia sì, quanto sono di voglia, non bevo più 11-12 anni, niente. Adesso si compra, ma una volta tenevamo tre quattro tavole dalla stalla e si facevano, era povertà. Adesso ho l'abitudine di comprarla, bisogna spendere di più. Tante volte ho aiutato a lavare i morti, fare la barba e tutto, ma non solo io, quanto muoiono a casa. tante volte ero anche a Belgrado. Certi dicono della Romania, certi dicono dell'Italia, non so dove. Ma i professori dicono che sono delle regioni in Romania che parlano la nostra lingua. E loro interessa tanto questa lingua, un giorno sarà, un giorno vedremo un popolo dimenticato. Eh, purtroppo... Eh sì. E così possiamo. Ma quando la lingua ha cominciato a parlare di meno? Ancora del 1329. No, ma fino a quando la lingua... Fino a quando? Tutti parlano anche oggi. Ma no, mai oggi no. Tutti quei vecchi. Qualcuno che è andato via ogni tanto torna l'estate. Tanto che sarà... Quando hai qualche censimento, io non posso dire che la mia lingua è necroata e l'italiana, ma della lingua è stromela. È davvero. Fino a cinque o sei anni non sapevo parlare la nostra lingua. Anche se capivamo perché qua era la fabbreria a nostra casa e vieno gente che l'hanno creato così. E come chiamate la vostra lingua a casa? La casa la chiamiamo Vlaschi. Vlaschi? Vlaschi. Perché soltanto... Più tardi avete... I contorni gliene chiamano, come quelli della Liburnia, qua e Bojuno, qua. Vlaschi. Vlaschi. Ma... non so. Noi diciamo che siamo istro-romeni, io tengo i libri, ma non si trovano a casa. Come prestato a un professore, non l'aveva ancora portato. Ma quando lei era giovane sapeva che in Romania parlavano una lingua come la vostra? Sì, ancora del 28 venivano qua i professori. Anche prima, nel tempo dell'Austria. Mi ricordo tante cose, ancora del 1904, che venivano qua i professori rumeni. E' andato da qua a studiare un ragazzo qua vicino. Era nato nel 1881. Si chiamava Andrea Glavina. e ha studiato e è venuto a casa professore. E lui faceva la scuola qua, ma in Italia dopo la... dopo che è venuto all'Italia del... qua del 1918. che ha fatto il comune istro-romeno di tutti questi contorni. E fino ai 43. Era questo nostro comodo. riconosciuto. Quindi la lingua ufficiale era il rumeno? Se avete un libro a Trieste sicuro, che ha scritto Lanerina Ferresini. Forse l'avete visto. Il comune istro-romeno di Valdarsa. Potete comprarlo sicuro. Delle vostre librerie. Sì. Puoi sentire? Sì. La scrive tutto. La scrive tutto. Tenente dell'esercito. Comandante di una batteria di quattro cannoni. Anticaro. Dopo la guerra. Dopo la guerra. Ero a Maribor. Quattro anni. Con Torri. Boschi Kotar. Eccetera. E' un magazzino dentro. Lavora anche lui ancora. Lavora ancora, sì. Quattro anni. Quelle volte. Cari non occorre più. Adesso si è caldo. Sì. Erano due fabbrerie. Tutte e due le nostre case. Poi abitavo a nonno. E dopo siamo andati insomma. Anche lei è andato a lavorare qui via? No. Lavoravo a casa sempre. Ero militare. E dopo sono in casa. Ma lei ci ha detto prima che. Fino a quando è andato a scuola. Parlava solo rumeno. Giusto? Solo rumeno. E dopo abbiamo imparato. Perché le sorelle. Le sorelle erano più vecchie. E con loro ho imparato a parlare italiano. Perché sempre studiava a casa. Eh. I libri leggeva. I libri di lettura. E altri. Così ho imparato anch'io. Così anche lui. Ma qua in paese si parlava. Tutti. Tutti. Ma la maggior parte. Adesso i maschi sono di qua. Le mogli sono. Sono matrimoni misti. Eh. Matrimoni misti. E così la. I bambini parlano. Istro. Croato. Ormai si. Diversi sanno anche italiano. Eh. Capiscono tutti. Si la nostra lingua. Dalmazia. Che lavorava qua in economia del lago. Sono sposati qua. E hanno imparato la nostra lingua. E parlano la casa così come era. Ah. Chi era? Le dalmatiche. Il 34 una nuova casa per il municipio. Quella dove adesso c'è la posta. Si si. Si si. Dove c'è la posta si. E poi sono tutti i tedeschi. Hanno bruciato la casa. Dopo 9 anni che era fatta. E dopo la guerra l'abbiamo riparato. E quando il paese ha cambiato il nome? Come? Il paese si chiamava Valdarsa. 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 Valdarsa Milanova. Questo quasi è Briani. Adesso chiamiamo Briani. Sono diversi villaggi. Zankovic. Villa Zankovic. Costruziani. Una volta. Questa sera voi non c'è. Voi poi dici se vuoi anche pringai e poi più bene. Volevo fissare tutto. Si. E poi ci voglio avere due minuti. Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Ho poesie mi scrite. Si veramente. Ho inventato. E ho componito. Per cantare. Allora ci deve cantare qualcosa. Si. Si. Prego. Quando vuole. E un'opte mamma isuat. che vai tu com'ire post. Che non mam io qui resti, mi è posta chiaro grelo, che nam io ti re, com'ire a flat. Mi è posta chiaro grelo, e grelo, 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 che nam io ti re, com'ire a flat. Io si che non pot' ansi, 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 maia nave zut, sva ce naposkva se, io ti re, ambusnit, che io ti am'ire vrut. Io si che non pot' ansi, sia, 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 ansi, soarele n'a post, laura n'a svitit, maia n'a vissut, sva ce posta l'ucru, io ti re, ambusnit, che io ti am'ire vrut. Soarele n'a post, laura n'a svitit, sva ce posta l'ucru, maia n'a vissut, io ti re, ambusnit, che io ti am'ire vrut. la composta lei quando io ho aperto gli occhi non ho trovato nessuno ha, 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 ha E cando mia ritrecaveiro Egli vorzite, egli vorzite E cando mia ritrecaveiro Egli vorzite fahren i monti ma soate rose la stas e rogine del luto mossa da te rèzina carra murita carra morita la stas rogine del solta te rèzina carra morita de fra ei de fra ei che non se muore ma se muore ma se muore de fra ei che non se muore ma se muore de dura de l'amore che non si muore ma si muore, ma si muore, e dell'amore che non si muore, ma si muore di dolore. E anche questa è la composta lei? Sì, ma cantai in italiano questa canzone quando ero giovane.